Grazie all'avanzo di bilancio 2015 il Comune di Marosti che è stato in grado di liberare circa un milione di euro di risorse per una serie di opere pubbliche urgenti, a partire dalla risistemazione dei danni causati dalle frane. Il Comune denominatore degli interventi che andiamo a fare sono la sicurezza e la riqualificazione che riguarda l'intera area del nostro territorio. Quindi la sicurezza legata alle strade, alla viabilità e al sistema delle frane che purtroppo ci colpisce in maniera importante, sicurezza nelle scuole, i nostri edifici scolazzi hanno bisogno di interventi importanti e poi tutto quello che riguarda la riqualificazione. Per quanto riguarda gli interventi sulle frane sono già in corso i lavori di ripristino in via Caribollo mentre i cantieri stanno per aprire in via Marchetti. I due interventi hanno richiesto complessivamente un importo di circa 360 mila euro. Il resto dell'avanzo di bilancio sarà utilizzato per urgenti lavori di edilizia scolastica e per un progetto di ridisegno del centro della frazione di Crosara. Consiste nella creazione, soprattutto nella riqualificazione di un'area importante per il centro di Crosara della nostra frazione, con un intervento di carattere ludico-ricreativo, mi pare che l'abbiamo definito, e quindi con la creazione di spazi verdi e a servizio della comunità di Crosara.